Abbiamo vissuto un passaggio fondamentale per la vita del comune, l'approvazione degli aliquoti dei tributi locali, ciò che i cittadini pagano per usufruire di servizi che contribuiscono ad aumentare o meno la qualità della vita. Ci saremmo aspettati un indirizzo politico chiaro della Giunta Biondi, definendo le categorie a cui venire incontro, piuttosto che le esigenze che si intendono tutelare, invece, si è proceduto in perfetta continuità. Con il passato non c'è stato nessun segnale di cambiamento. A parlare è Carla Cimoroni, consigliera Comunale della Coalizione Sociale. A dire il vero, il segnale è arrivato, secondo lei, in direzione di un'ulteriore riduzione dell'aliquotatasi del 2,5% al 2% per i centri commerciali. In effetti si è inciso al ribasso sul tributo, ma soltanto per sacrifici, alberghi, pensioni e fabbricati costruiti e adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e commerciale. A nostro parere avrebbe avuto maggior senso abbassare la tariffa per i piccoli commercianti e gli artigiani. La Coalizione Sociale ha proposto cinque emendamenti per la riduzione della tariffa e la tassa sui rifiuti, proposte che rispondevano ad una nostra proposta strategica sulla fiscalità. In sostanza, le proposte andavano della direzione di un'estensione della riduzione sulle utenze non domestiche, anche per i centri storici delle frazioni, come accade d'altra parte per l'Aquila Centro, e sconti sulla tariffa per gli esercenti di Fonte Cerreto, provati dalla mancata apertura degli impianti. Quello che ci ha colpito, se c'è una flebile politica, è proprio una politica di sconti rivolta ai centri commerciali, perché si è deciso di andare ad abbassare la tasi, portandola dal 2,5 al 2 per mille, sui centri commerciali e non, per esempio, come sarebbe secondo noi stato più giusto, sui piccoli commercianti o piccoli artigiani. Quanto riguarda il centro storico, noi abbiamo proposto, per esempio, di estendere le riduzioni unitari che già esistono nel regolamento, esistono per il centro storico dell'Aquila, ma di estenderle al centro storico delle frazioni, si parla tanto di incentivare il recupero delle frazioni che sono sicuramente più indietro, allora non saranno molte, ma tutte quelle piccole attività che provano a rientrare nei centri storici delle frazioni, agevoliamole, andiamo anche lì, abbiamo proposto anche lì una riduzione della taria, anche perché inevitabilmente chi rientra nei centri storici dell'Aquila e delle frazioni in questo momento è svantaggiato, per la presenza del centro storico dell'Aquila, dei sottoservizi, ma anche dei cantieri in generale, della ricostruzione e quindi anche lì è un modo di andare a incentivare queste attività, il ritorno di queste attività nei centri storici, anche quello è stato bocciato. Per Malafoglie e De Matteis, invece, stop alla demagogia, Cimoroni è stata assolutamente fuori luogo. In questo comune per anni si sono gestite politiche e amministrazione con superficialità e sciatterie, hanno detto, con danni che sono sotto gli occhi di tutti, ora è il tempo di gestire la cosa pubblica con serietà e accortezza, senza prendere in giro i cittadini, hanno dichiarato i due esponenti di Fratelli d'Italia.